ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi facciamo un esperimento velocissimo ma molto divertente quello di cui avete bisogno è una bustina di biochetasi un bicchiere e dell'acqua prendiamo la bustina di biochetasi la apriamo e la mettiamo nel nostro bicchiere d'acqua prendiamo dell'acqua ok lasciamo il nostro bicchiere qui nel lavandino e adesso facciamo una cosa molto 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 particolare ovvero andiamo a illuminare questa soluzione di biochetasi con una lampada speciale ovvero la lampada di wood anche chiamata lampada uv spegniamo le luci e vediamo che cosa accade guardate che effetto vi da wow fantastico questo perché la biochetasi contiene alcune vitamine b e in particolare la riboflavina che è la vitamina b2 emette nell'ultravioletto dando proprio questa colorazione così appariscente per questo ed altri esperimenti scrivetemi alla cucinachimica chiocciola gmail.com iscriviti al canale ed attiva la campionella per rimanere sempre aggiornato su nuovi fantastici esperimenti anche un pochino psichedelici ci vediamo al prossimo video ciao